Buongiorno, benvenuti nuovamente nel nostro spazio dedicato alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Oggi parliamo di un progetto che riguarda le nostre scuole, riguarda i nostri ragazzi e vede unita la Lilt insieme alla Guardia di Finanza e al Rotary Club Montaperti. Questa è la seconda edizione, una seconda edizione molto importante perché lo scorso anno siamo andati in presenza a fare lezioni con i medici della Lilt e gli agenti della Guardia di Finanza nelle classi. Quest'anno invece abbiamo pensato di farlo in DAD, in sostanza, realizzando un video dove proprio i medici e gli agenti della Guardia di Finanza hanno fornito alcune informazioni importantissime sulla prevenzione a tutto tondo. Che cosa significa? La prevenzione da un punto di vista sanitario e da un punto di vista legale, della legalità. Sembra impossibile che questi mondi si possano incrociare, avere dei punti in comune e invece è così. Adesso ve lo spieghiamo insieme ai nostri ospiti. Intanto il comandante della Guardia di Finanza di Siena, il colonnello Giuseppe Marra. Lo ringraziamo di essere qui quest'oggi con noi proprio per parlare di questo, cioè del valore di un progetto come questo che riguarda i ragazzi e che li stimola ad avere dei corretti stili di vita. Intanto grazie per il gentile invito, è sempre un piacere essere qui con voi per questa iniziativa. Noi come Guardia di Finanza abbiamo strutturalmente sempre partecipato alle iniziative in favore della scuola e del mondo scolastico perché l'educazione e la legalità economico-finanziare rappresenta un nostro punto di riferimento. È pensabile pensare che il cittadino modello di domani nasca dalla sera alla mattina, ma il cittadino di modello di domani passa attraverso la formazione, passa attraverso la formazione e l'educazione su sani principi degli studenti, della parte buona, della parte sana, del motore della nostra civiltà del domani. Quindi noi abbiamo accolto sempre, accogliamo sempre con grande favore e con grande interesse questo tipo di iniziativa a maggior ragione quest'anno, in cui sostanzialmente i nostri ragazzi, i miei ufficiali, i miei militari non saranno presenti nelle aule degli studenti per discutere con loro, confrontarsi su tematiche di straordinaria attualità ma soprattutto di quotidianità perché necessariamente l'uso di comportamenti o meglio essere avvezzi a comportamenti sbagliati è un'insidia che si determina e che si manifesta sempre più frequentemente come ahimè i comunicati, la stampa e la cronaca ci porta tutti i giorni a constatare. Quindi come diceva giustamente la dottoressa Tancredi, noi stiamo cercando di mettere insieme mondi apparentemente distanti ma che in realtà sono molto prossimi e sono vicini l'uno all'altro. La cura della persona e quindi la prevenzione passa attraverso sicuramente dei comportamenti di stili corretti ma i comportamenti di stili corretti impongono il rispetto delle regole ovvero evitare sostanzialmente l'uso, abuso di sostanze stupefacenti, l'uso, l'abuso di alcolici e perché no? Quest'anno abbiamo affrontato in maniera molto sfidante quella che è un tema molto particolare, cioè sostanzialmente la contraffazione perché spesso dietro al tema della contraffazione che determina una serie di insidie, che nasconde una serie di irregolarità, che è un mondo del malaffare, però pochi o non tutti notano come magari ci sia l'uso di prodotti qualitativamente scadenti, molto spesso tossici, nocivi per la salute e che nel lungo periodo possono determinare delle conseguenze reversibili sulla salute degli lineari utilizzatori, specie se minori, specie se bambini. Avete capito quindi che legalità e salute per certe cose possono andare a braccetto e quest'anno è quanto mai importante educare ragazzi perché proprio per la DAD sono obbligati a stare molto sul computer, ad utilizzare questo strumento così importante che può portare molto lontano ma che può portare anche su vie sbagliate, su strade che non vanno bene. Comandante ci aiuti a capire cosa ha significato quest'anno per i ragazzi, cioè rimanere solamente focalizzati sul computer, quali rischi possono avere? Sicuramente quest'anno è un anno particolare che a distanza di nei prossimi 10 anni, 20 anni tutti ricorderemo e sicuramente lo ricorderanno anche i nostri studenti, i nostri figli, i nostri bambini perché sono stati abituati a convivere e a condividere delle metodiche anche nell'educazione del tutto nuove e del tutto innovative anche per noi, per noi stessi, valutati anche da un punto di vista come genitori. Diciamo che oggi la didattica a distanza è diventata quasi un qualcosa di necessario, indispensabile per consentire tutte le volte in cui non è stato possibile effettuare la didattica in presenza, uno strumento alternativo per garantire l'istruzione obbligatoria ai nostri ragazzi. Quindi stare tutto il giorno davanti al computer, stare su internet è sicuramente un'opportunità, un'opportunità che consente ai ragazzi di essere, di continuare a mantenere quel filo di socialità che la scuola ha tradizionalmente sempre assicurato e garantito. Però poi c'è sempre il rovescio della medaglia, internet e l'uso degli strumenti tecnologici è una grande opportunità, è uno strumento di studio, è uno strumento di intrattenimento, è uno strumento di divertimento, diventa anche uno strumento di relazione e di buona e sana relazione. Però non ci dobbiamo mai nascondere dietro un dito e cioè non considerare tutti i rischi, tutte le insidie e tutte le criticità che il mondo di internet purtroppo e ahimè può porre all'attenzione dei nostri ragazzi. Stare non al contatto con i propri compagni, vivere isolati e non poter uscire perché siamo in presenza di limitazioni imposte dall'autorità di governo può rappresentare un'occasione ghiotta per i ragazzi per avventurarsi su siti, su percorsi, su aree tematiche sicuramente non educative. Quindi ovviamente l'impegno e il messaggio che si vuole lanciare anche con questo incontro qual è? Sfruttiamo la tecnologia, sfruttiamo quanto di buono la tecnologia riesce a darci e riesce a fornirci. Prendiamo le distanze anche da un punto di vista, anche da internet, nei termini in cui internet significa accostarci a comportamenti poco edificanti, a comportamenti scorretti in talunni casi integrante, vere e proprie, fatti specie di reato. Da parte mia più che una speranza lo prendo veramente come un impegno personale e dell'amministrazione che rappresento anche per il prossimo anno di far parte ovviamente di questa squadra per poter realizzare una terza edizione di questa bellissima manifestazione appunto con la possibilità di continuare a riscoprire e a riprendere il contatto con i nostri ragazzi nelle scuole e vivere insieme a loro e con loro quella che è la dimensione del confronto che a tutti i livelli e che a tutte le fasce d'età contribuisce a crescere e a migliorarsi vicendevolmente. L'altro elemento molto importante di questa squadra è il club Rotary Montaperti rappresentato dalla Presidente Gioia Cresti. Il connubio fra la LILTE e il Rotary Montaperti va avanti da anni con l'intento di promuovere fra la popolazione la prevenzione oncologica, cioè la diagnosi precoce per arrivare in tempo sui tumori e curarli bene e arrivare a una risoluzione attraverso professionisti e strumentazioni adeguate. Ecco, questo è un tema che nel Rotary è molto caro. È così, Presidente? Sì, assolutamente. Il Rotary è ben felice di accogliere certe manifestazioni e soprattutto di fare prevenzione e di fare istruzione in qualche modo alla popolazione, proprio per essere vicini a tutta la popolazione, perché il Rotary è donare al di sopra dei propri interessi personali, quindi cercare di creare un tessuto sociale che sia sufficientemente informato di tutto ciò che succede nel nostro quotidiano e avere questo connubio con la Lega Italiana contro i tumori, con la LILTE, per noi è fondamentale e quindi siamo ben felici di accogliere qualsiasi organizzazione o qualsiasi conoscenza che ci venga proposta. E da due anni, vi dicevo, con la Guardia di Finanza e con il Rotary Montaperti siamo nelle scuole e il Rotary ha proposto di affiancare all'educazione sanitaria un concorso, un concorso molto importante perché ha coinvolto lo scorso anno tanti scolari e quest'anno lo stesso, anzi forse con un successo maggiore, Presidente. Assolutamente, devo dire che quest'anno è stato, nonostante le difficoltà dell'annata, che siamo tutti coscienti, è stato un successone anche forse dato dall'edizione scorsa perché abbiamo tante scuole che hanno aderito e quindi siamo entusiasti e aspettiamo con grande piacere tutti i lavori che ci verranno donati. Saranno circa sette le scuole ma ci saranno poi dei, cioè ci sono anche dei comprensori scolastici che dopo il Presidente dei progetti del nostro club vi illustrerà particolarmente. Ecco, insieme al concorso stiamo preparando anche una cerimonia finale dove i ragazzi verranno premiati, dove verrà riconosciuto il loro talento, la loro creatività, creatività che è associata proprio al tema della prevenzione. E dove abbiamo pensato di organizzare questa cerimonia? Perché speriamo di essere tutti in presenza, di poterci liberare da questi legami che in questo momento ci hanno tenuti un po' più fermi, un po' più seduti, no? Sì, devo dire che sono molto felice perché abbiamo fatto una richiesta specifica al Consiglio Comunale al Sindaco in persona per avere un luogo carissimo ai senesi, carissimo a tutta la popolazione, in pieno centro della città, non lo dico solo per scaramanzia, ma dove generalmente ci vediamo altro e sarà una bella sorpresa anche perché vivremo nel nostro cuore cittadino. Allora, legato al nostro concorso c'è una bella sorpresa che sta proprio nel luogo dove potrebbe avvenire la cerimonia finale per la premiazione dei ragazzi e in quella occasione ha garantito la sua presenza la mamma di una nostra amica e purtroppo ci ha lasciato, di Nadia Toffa. La mamma Margherita vuole essere con noi in quel momento proprio per parlare dell'importanza della prevenzione nelle malattie oncologiche per presentare il libro dedicato a sua figlia, quindi sarà un momento anche estremamente emozionante. Presidente. Credo che la presenza di mamma Margherita, la madre di Nadia Toffa, che tutti conosciamo, questa ragazza straordinaria dalla grande vitalità a cui è stato nominato questo concorso, perché ci sembra giusto anche far capire ai ragazzi l'importanza della prevenzione e Nadia è stata proprio una testimonia in questo e speriamo, lei ha accolto con grande amore e fervore questa nostra iniziativa e sarà presente con noi. La cerimonia dovrebbe svolgersi, come vi ho detto, in questo luogo straordinario e agli inizi di giugno. Dovrebbe essere esattamente l'otto, ma comunque saremo in grado di fare una chiarezza sulla data e sulla premiazione quanto prima. Allora entriamo nel merito del concorso che ha riguardato le scuole superiori senesi, insieme a Vittorio Innocenti che è responsabile del progetto e segretario del Rotary Club Montaperti e quindi Vittorio. La partecipazione è stata eccezionale, non potevamo ipotizzarlo in un momento così difficile, eppure tantissime scuole hanno aderito al concorso. Sì, come hanno già anticipato prima di me il comandante e la presidente, abbiamo avuto una grande partecipazione. Nonostante un'annata particolare per le scuole con aperture, chiusure, didattica a distanza, quest'anno abbiamo avuto l'adesione di sette istituti, del quale uno è comprensivo perché comprende il classico, il musicale, l'artistico e l'umanistico che è il Piccolomini. Le altre sono l'Istituto Bandini, il Liceo Scientifico Galilei, l'Istituto Comprensivo San Rocchi, il Monnagnese, l'Istituto Agrario e il Liceo Saruore. Quindi abbiamo avuto una grande partecipazione, io ringrazio i dirigenti scolastici che hanno creduto nel progetto, i professori, i referenti, oltre ovviamente a tutti gli studenti che quest'anno hanno partecipato a questo concorso che era dedicato agli studenti e le studentesse delle classi quarte e quinte. Quindi siamo soddisfatti, entro il 30 aprile dobbiamo raccogliere tutti i manufatti che quest'anno erano su tre macro aree, erano di tipo artistico, letterario e musicale, perché le categorie sono cinque, poteva essere fatto un video, poteva essere fatto un componimento musicale, poteva essere fatto uno scatto fotografico, poteva essere fatto un elaborato artistico, quindi pittorico, una scultura, un'installazione, oppure un elaborato scritto, quindi un tema, una poesia. Quindi Vittorio, i ragazzi sono pronti, ma hanno ancora alcuni giorni per poter elaborare i loro pensieri attraverso il video che abbiamo inviato loro, quindi il 30 di aprile la scadenza, ma ci sono ancora un po' di giorni per mettercela tutta, per essere creativi, per dare il meglio di sé e poi alla fine arriveremo alla cerimonia dove i migliori verranno premiati anche. Sì, manca ancora qualche giorno, ci stiamo impegnando tutti, i ragazzi, i professori, noi che ci siamo resti disponibili per andare con tutte le cautele del caso, comunque a ritirare direttamente presso le scuole gli elaborati. Ovviamente stiamo preparando già i premi, perché comunque è giusto che su ogni categoria verrà premiato il miglior classificato, verranno rilasciati gli attestati come gli anni scorsi in questa cerimonia che vuole essere una festa per l'impegno che tutti i ragazzi stanno mettendo in questo progetto, che è già il suo secondo anno, ma che ha visto veramente una crescita esponenziale della partecipazione sia delle scuole che dei ragazzi. Quindi siamo veramente soddisfatti, ringrazio nuovamente di questa occasione e questa opportunità che come Rotary c'è stato dato sia dalla Lilt che dalla Guardia di Finanza. Quindi grazie davvero da parte di tutto lo staff di Lega Tumori, a tutti gli attori che sono stati impegnati in questo progetto, nel concorso. Quindi do appuntamento a tutti all'8 giugno perché ci spero davvero che la cerimonia possa avvenire l'8 giugno, vorrà dire che saremo più liberi da tutte queste costrizioni a cui ci obbliga la pandemia. Quindi l'appuntamento è con tutti i ragazzi per quel momento che spero sia un momento di rinascita. A tutti voi l'appuntamento alla prossima settimana con una nuova edizione del nostro progetto sulla prevenzione oncologica. La prossima settimana parleremo di prevenzione del tumore al seno. Grazie di averci seguito e buona serata. Grazie a tutti.